Bene, stiamo andando via con il Fiat Ducato 2005 Turbo Diesel su Pilot, è diventato anche un po' tuning, qua abbiamo la telecamera di lettra marcia che spegniamo adesso perché non ce ne facciamo niente, strumentazione varia, bluetooth, mi sono cascate le chiavi, pedalino per essere comodi, centralina per i vari ricaricamenti del telefono, le trombe bitonali e adesso si parte, un ok. Siamo in autostrada, il conto chilometri non funziona, stiamo procedendo lentamente perché non sappiamo quanto stiamo facendo, adesso c'è la prova CB, vediamo un attimo se funziona, lo accettiamo un secondo, lo mettiamo sul canale 5 che è il canale dei camionisti, eccolo qui, lo troviamo, brecco brecco sono Daniele, c'è qualcuno che mi copia, passo, brecco brecco sono Daniele, c'è qualcuno che mi copia, passo, brecco brecco sono Daniele, c'è qualcuno che mi copia, passo, c'è qualcuno che mi copia, passo, brecco brecco sono Daniele, ci proveremo dopo, ciao! ben, ci stiamo comandando, il camper, fino lì... niente abbiamo prita le ferie, adesso lo possiamo anche come nel caso ci attendiamo un attimo che si scaudi un po' il motore basta, bella esperienza impianto radio da manicomio criminale un attimo ok ci apprestiamo o uscire? a 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